eccoci eccoci qua e giustamente ci siamo con l'arrivo del 18 19 20 ottobre è ufficiale per nuovi umani è arrivato l'inverno quello quello avanzato quello quello che lavoro ed eccolo qua giovanni zucotto sta passando a giovanni zucotto ecco il cugino secondo grado di paolo cappuccio e sì perché sono tutti in giro sono tutti in giro e sono una una specie di francesca sciarpetta sono una specie di non è una casca è proprio come si chiama negativo non è casta non è il lobby è una setta è una setta ci sta ci sta francesca in carcagna faccio caso quella che si mette le manine in tasca e poi fa di questo tira un po su il pallucci fate capire che sente freddo ecco ma sempre anche solina sciarpetta anche lei la cucina del sograto c'è francesca in carcagna che è schianzata da un sacco di anni con giovanni in carcagnato giovanni in carcagnato in carcagnato in carcagnato e poi ci stanno anche l'italo francese paul moncler che però di madre ed alico e abbiamo anche john barbour il forse il quattro stagioni film faschi e poi abbiamo abbiamo migliaia la muffola giovanni quanti sonia mantella doppio cognome filo probabilmente probabilmente nobile antonello cs piumini sempre una specie di doppio cognome michele ls cioè ci stanno che ormai sono tutti in giro perché ottobre faccia ottobrata romana faccia freschietto col calo della temperatura asetta è messa online non c'è storia pino zucotto antonella mantella gira sciarpetta sony una sciarpettina antonella muffola giovanni guanti sono tutti in giro per non parlare già cominciato anche a settembre paolo smanicato sono tutti in giro io penso che credo sia la condizione mentale non chiedo che oggi faccia particolarmente freddo sono le otto e mezza mattina anzi sono le otto e cinquanta avrei appuntamento con lo scarone per andare al verano a trovare la patriarca molto puntuale il dubbio mi viene non svegliato dimenticato non è regato io ero anche scatoletta per gatti pulito perché da buon gattaro al verano sul gatto che come arrivo mi ha trovato ma non perché mi ha guardato bene perché io sono da maniera e comunque da oggi siete tutti in giro la setta dei coperti a prescindere dalla temperatura la giornata d'ottobre da 21 gradi paolo un carcagnato soli al carcagna manina tasca in carcagna un po con miglia e la moffola sono tutti 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 in giro viva la vita tutta la vita bella vedete vedo la condizione mentale